Napoli, Mario Rui restò addio. Svelato il suo futuro. Svelato il futuro di Mario Rui. Ne ha parlato il suo agente Mario Giuffredi. Lo vedo a Napoli almeno per un altro anno. Poi magari può essere che rimarrà ancora per altro tempo. Ma adesso è sicuramente presto per dirlo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a TMW. Giuffredi ha elogiato l'ex terzino della Roma e ha parlato della sua stagione con Mario Rui protagonista della cavalcata che sta conducendo il Napoli alla vittoria dello scudetto, io penso che se dovesse vincere il campionato. Lo scudetto Mario Rui l'ha vinto lui insieme ai suoi compagni. E per questo motivo deve giocare con la maglia con lo scudetto. Napoli, il futuro di Mario Rui e di Lorenzo, parla la gente non solo il terzino portoghese, anche di Lorenzo a Napoli sta molto bene. Da capitano, potrebbe restare in azzurro ancora a lungo. Lavori in corso per il rinnovo e Giuffredi ha aggiunto, di Lorenzo a Napoli sta molto bene. È molto legato alla città, al club e dai tifosi. Non vedo il motivo per cui debba cambiare. Il Napoli oggi è un club importantissimo, fra i top in Europa. A meno di situazioni particolari resta a Napoli. Virgola.